Un grandissimo gol di Victor Osimene, il Napoli è in vantaggio, esattamente al trentacinquesimo minuto nel corso della ripresa cambia il parziale allo stadio olimpico, una magia di Victor Osimene questa volta è sfuggito alla guardia di Chris Molli che da posizione impossibile ha fulminato lui Patricio con una diagonale a mezza altezza verso il secondo palo, gol meraviglioso dell'attaccante del Napoli. Victor Osimene forse è il momento in cui la Roma sembrava poter uscire e sembrava poter creare problemi alla retroguardia del Napoli, è arrivato il gol della formazione nata a Luciano Spalletti con Victor Osimene, un gol, ripetiamo, meraviglioso, una fiondata da posizione impossibile che ha incrociato l'area di rigore ed è finita alle spalle dell'incolpevole lui Patricio, questa volta Smalling ha lasciato un po' di spazio al centroavanti delle Napoli che non ci ha pensato su due volte e è riuscito a colpire di collo pieno profiondando il pallone verso il palo più lontano segnando un gol spettacolare, siamo al 36, un minuto nel corso della ripresa, lo stadio olimpico di Roma è passato in vantaggio il Napoli con Victor Osimene, Napoli che conduce per 1-0 sulla Roma.